Nella giornata di oggi la campagna massiva supera in provincia di Sondrio le 106.000 somministrazioni, per la precisione 71.672 prime dosi inoculate e 34.977 richiami. Intanto nei reparti Covid-19 del Morelli si registra un nuovo calo che vede scendere a 31 le persone ricoverate, 7 in meno rispetto a lunedì, 4 i pazienti più gravi affidati alle cure del personale della terapia intensiva. Negli ultimi quattro giorni si sono registrati il decesso di un'ottantenne, 7 nuovi ricoveri e 13 dimissioni. Il progressivo miglioramento della situazione pandemica, spiega SST Valtellina Altolario, con il calo dei contagi, degli accessi al pronto soccorso e dei ricoveri, ha consentito di avviare la ripresa graduale delle attività sospese dallo scorso autunno nel presidio di Sondalo. Sul fronte della campagna vaccinale oltre 10.000 le somministrazioni settimanali nei 5 centri operativi di Sondrio, Sondalo, Morbegno, Chiavenna e Villa di Tirano. 105 inoltre le persone affette da gravissima disabilità vaccinate tra aprile e maggio. La somministrazione è avvenuta a domicilio per 55 adulti vaccinati con Moderna e 5 ragazzi dai 16 ai 18 anni ai quali è stata inoculata una dose di Pfizer. Sempre con Moderna sono stati vaccinati 45 pazienti cronici fragili presso l'ospedale di Morbegno. A questi si aggiungono 175 tra caregiver e conviventi convocati presso i presidi della città del Bito e di Sondalo. In questi mesi, spiega Sandra Re, responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale cronicità e continuità assistenziale di Sondrio, ci siamo dedicate le persone con gravissime patologie e non autosufficienti che per le loro condizioni necessitano di un trattamento speciale. Ogni caso, spiega la dottoressa Re, è stato valutato singolarmente proprio per la specificità delle diverse situazioni e le visite a domicilio per la vaccinazione sono state concordate tenendo conto delle esigenze degli utenti. Tutto si è svolto regolarmente, concludere, e oggi possiamo dire di aver messo al riparo dal rischio di contagio tantissime persone fragili che già soffrono per la loro condizione.